Ok capisco che io vestito sportivo sia poco credibile ma oggi voglio suonarvi tre canzoni d'amore e prima di farlo vorrei consigliarvi i miei corsi di chitarra per suonare esattamente come me qui sotto al video in descrizione Grazie a tutti Non importa come lo so ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi bebendo vino e birra non importa quanto ingrassi l'amore è tutto quello che ci pare l'amore è avere armi senza fare male l'amore è così stupido ma ballo puoi capire l'amore è solo carte e anche quando sarà chiaro che non c'è più niente credimi, 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 credimi sempre e anche quando avremo troppe cose da cambiare credimi, 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 credimi sempre se ti chiedessero se c'è qualcuno che ti ha amata al punto di pensare che poi in cambio non voleva niente tranne fossi felice che ti lasciasse in pace di diria verlo accanto per fargli capire che per te non è mai abbastanza no, non è mai abbastanza scusa se interrompo forse non ti rendi conto che per me sei e non esiste il mondo perché per prima esisti tu tu che mi attraversi e tu tu che di stelle vesti il cielo e mi convinci che in te non è affrono ma è abbastanza tu ciò che poi non ti aspetti e tu che piangi e non nascondi niente neanche quando dici che hai sbagliato e vuoi cambiare tu e così forte sono tu Ragazzi queste erano tre canzoni d'amore da suonare fatemi sapere se volete in tutorial quindi imparare queste tre canzoni che secondo me sono stupende da suonare a cantare per chiunque voi vogliate e vi ricordo che se volete imparare esattamente come suono io la chitarra quindi divertendovi in poco tempo per suonare le vostre canzoni preferite con accordi e ritmi anche molto più complessi io ho creato chitarra digitale che è il mio corso per imparare a suonare dalla A alla Z in tre mesi e lo sto lanciando fino al 30 settembre il mio corso volare che sono un repertorio di 30 grandi successi italiani per migliorare la chitarra su accordi e ritmi quindi una sfida al giorno una canzone al giorno quindi molto bello e trovate tutti i miei corsi qui giù in descrizione o sotto al video ok? noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao